Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi con l'Avvocato Guaristo parleremo delle molestie sessuali sul lavoro. Attenzione perché in alcuni casi la responsabilità non è solo dell'autore delle molestie ma anche del datore di lavoro. Buonasera, questa sera intendo parlarvi del gravoso problema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, molestie di cui sono vittime prevalentemente le donne e soprattutto del caso in cui a rispondere delle molestie, di questo tipo di molestie, non è solo l'autore delle molestie stesse ma anche il datore di lavoro. Mi riferisco, mi riferirò fra un attimo a un caso particolare di cui pure mi sono personalmente occupata dal punto di vista professionale. Una piccola premessa è questa, la molestia sessuale sul luogo di lavoro può integrare diverse tipologie di reato, prevalentemente l'articolo 612 bis del codice penale che sono gli atti persecutori, ovvero il cosiddetto stalking può costituire una violenza sessuale strettamente intesa, quindi articolo 609 bis del codice penale e o, perché i reati possono essere più di uno, anche un maltrattamento vero e proprio. Esiste una norma, l'articolo 572 del codice penale che punisce il maltrattamento in famiglia ed estende questo tipo di responsabilità penale anche all'ambiente lavorativo purché ci siano alcune condizioni per cui per esempio la parafamiliarità, cosa vuol dire? Che l'ambiente di lavoro molto o molto ristretto, per cui simile a un contesto familiare o sia pure in un ambiente più meno ristretto, ma che il rapporto tra il maltrattante e il lavoratore o la lavoratrice è stretto tanto quanto, se non diciamo molto simile a quello che può essere un rapporto familiare, per cui per esempio la segretaria con il proprio capo ha un rapporto quotidiano a stretto contatto di frequentazione nell'arco quasi della giornata tale, per cui induce un rapporto di fiducia simile a quello familiare. Vi parlo del caso di cui mi sono occupata in cui una lavoratrice subiva pesanti molestie da parte di un suo preposto, di un suo capo, molestie che erano sia di tipo verbale con allusioni volgari e richieste anche di prestazioni sessuali, sia addirittura di comportamenti fisicamente espliciti, per cui strusciamenti, toccamenti delle parti intime, del seno, anche in presenza di terze persone. La lavoratrice subisce una gravissima situazione e quindi con conseguenze sul piano psicologico molto gravi, tale per cui si deve assentare del lavoro e decide in questo contesto di denunciare i fatti. dopo averli a lungo denunciati al datore di lavoro a cui chiedeva la collaborazione, perché venissero interrotti o imponesse a questo preposto una condotta diversa o addirittura licenziasse o trasferisse. Il processo penale in cui noi abbiamo chiamato in giudizio anche l'azienda come responsabile civile, ovvero affinché rispondesse in caso di condanna dell'imputato per il danno causato da questi. Questo lo consente l'articolo 2049 del codice civile, che afferma la responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dal proprio subalterno. Il processo si è concluso con la condanna dell'imputato per la responsabilità penale, per la violenza sessuale e per il maltrattamento, con la condanna anche del responsabile civile al risarcimento del danno, cioè dell'azienda, ma caso diciamo eccezionale, il giudice ha ritenuto anche di mandare gli atti alla procura perché si procedesse anche nei confronti del datore di lavoro personalmente dal punto di vista penale non solo civile, in quanto ai sensi dell'articolo 40 del codice penale che prevede che chi ha l'obbligo giuridico di impedire che un reato si commetta e non si adopere, in tal senso ne risponde anche personalmente. Questo è quello che è avvenuto nel caso di specie quando la lavoratrice, dopo aver avvisato il datore di lavoro di questa gravissima situazione di disagio, si vedeva negare qualsiasi tipo di tutela che invece il datore di lavoro ha, ma questo ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di apprestare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Vi dico questo perché voi tutti e tutte, soprattutto ahimè, siate attenti a reagire a situazioni di vessazione e di molestie sul luogo di lavoro, sicure che una tutela, è una tutela anche molto ampia, può esserci. Grazie. Abbiamo ricevuto numerose mail in cui ci venivano chieste delle delucidazioni sulla tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo. Abbiamo chiesto all'Avvocato Collastro di tornare sull'argomento. Buona serata a tutti. Più volte in questi nostri colloqui sono tornato sulla materia del licenziamento. In modo particolare sulla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto. Quindi cosa ha diritto il lavoratore? Rispetto all'impostazione storica dello Statuto dei Lavoratori del 1970, in cui c'era un diritto alla reintegra, noi sappiamo che c'è stata tutta una progressiva evoluzione che ha attraversato e è passata in modo particolare nel corso degli ultimi anni, prima con la riforma Fornero, poi con le riforme del Giausata e della loro Governo Renzi, attraverso un modello di impostazione totalmente differente. In modo particolare su licenziamenti per natura economica, quindi laddove il datore di lavoro ritenga di dover risolvere il rapporto di lavoro con un lavoratore e il lavoratore, una volta che ha impugnato, dimostra che non c'è giustificatezza di questo licenziamento, allo stato attuale, a partire dal 2015, con la riforma cosiddetta delle tutele crescente del loro Governo Renzi, si era immaginato un modello molto particolare di risarcimento. Cioè in buona sostanza il lavoratore, la legge stessa definiva quanto sia abbia diritto il lavoratore a titolo di risarcimento. Ricordiamo perché ne abbiamo parlato più volte, due mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, attenzione non età del lavoratore, di anzianità aziendale, per cui il lavoratore che abbia avuto, so, cinque anni di anzianità aveva diritto a dieci mesi di anzianità, con un minimo e con un massimo, quattro mesi minimi, massimo ventiquattro mesi di risarcimento. Attenzione, questo non voleva dire che se uno veniva licenziato aveva diritto a ventiquattro mesi, evidentemente aveva diritto a ventiquattro mesi se aveva un'anzianità di dodici anni o più di dodici anni. Su questa impalcatura del 2015 è intervenuto la scorsa estate, nell'estate del 2018, una rivisitazione importante che è il cosiddetto decreto dignità dell'attuale Governo. Il decreto dignità modifica, sposta i confini, sposta i guardrail, come dire. Il minimo non è più di quattro mesi, ma diventa di sei mensilità, per cui se uno ha anche meno di un anno o due anni di anzianità, ha comunque un minimo di sei mensilità di risarcimento, e un massimale che passa da ventiquattro a trentasei. Ah, benissimo, allora abbiamo trentasei mesi. No, trentasei mesi se uno ha fino o più di diciotto anni di anzianità, perché se uno ha cinque, sei anni di anzianità, continua a prendere esattamente come prima. Questo che cosa vuol dire? Che il decreto dignità, in buona sostanza, non modificava l'impalcatura complessiva delle tutele crescenti. Su questo modello è intervenuta la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, in modo particolare, riprendendo a questo punto quanto si legge nella ordinanza di rimissione e in qualche modo dalle prime anticipazioni, perché il testo definitivo della sentenza di Corte Costituzionale deve essere ancora in questo momento che parlo pubblicato, ma parta da un presupposto molto semplice. Un modello di risarcimento basato esclusivamente su un criterio di anzianità è un modello illegittimo, incostituzionale e fonte di ingiustificate differenziazioni di trattamento. Facciamo l'esempio più banale. Il modello delle tutele crescenti è entrato in vigore nel marzo del 2015. Un lavoratore assunto nel febbraio del 2015 litiga con un lavoratore assunto nell'aprile del 2015. distanza di due mesi, tutti e due litigano, c'è una rissa, che ne so, il redattore di lavoro li licenzia giustamente entrambi, li licenzia entrambi, uno ottiene un risarcimento enormemente superiore a quello dell'altro. Beh, francamente, giustamente, questo modello è stato messo gravemente in discussione. Ma l'altro elemento su cui la Corte insiste è l'incapacità da parte, l'impossibilità da parte del magistrato, del giudice, di graduare il risarcimento. Il fatto di dover tener conto soltanto ed esclusivamente di quello che è l'anzianità di servizio non consente al magistrato di tenere conto di quello che è effettivamente successo, delle dimensioni aziendali, delle anzianità e delle condizioni personali del lavoratore. In qualche modo l'impossibilità da parte del magistrato di misurare effettivamente il risarcimento dovuto al lavoratore in funzione di quello che è effettivamente successo e delle posizioni, delle reciproche posizioni delle parti. Mi permetto di tornare a questo punto ancora per l'ultima volta e chiudo sull'argomento. Di fronte ad un licenziamento il lavoratore non ha diritto ai suoi tre anni, ha diritto ad un risarcimento che, presumibilmente, vedremo come verrà poi interpretato la legisprudenza, va da 6 a 36 mensilità, sulla base di una serie di parametri che sono l'anzianità di servizio, le condizioni con cui si è sviluppata la vicenda, che tiene conto delle dimensioni aziendali e quindi di una serie di parametri su cui interverrà il magistrato. Rimane, rimane, attenzione, forte, e io continuo a dire, sempre più ingiustificato dal punto di vista dei rapporti tra lavoratori. Probabilmente che ha una sua logica economica, una sua logica storica, politica, tutto quello che vogliamo, ma sempre meno tollerabile e sempre di minore utilità per l'economia complessiva, una differenziazione radicale tra il trattamento delle piccole aziende e il trattamento nelle grandi aziende. Cioè il lavoratore delle piccole aziende ha un massimo di risarcimento che arriva a 6 mesi, che coincide, guarda caso, con il minimo della grande azienda. Il problema è che tra piccola e grande azienda vuol dire fino a 15, appena dopo i 15 addetti. Qui vuol dire che aziende che sono molto simili, bastano due, tre dipendenti in più o in meno per determinare una radicale modifica nei trattamenti dei lavoratori, una modifica sul quale veramente dovremmo ripensare, ragionare, non per un atteggiamento punitivo nei confronti dei lavoratori di lavoro, probabilmente bisogna ripensare in una logica più giocata sul territorio, più giocata sull'intervento pubblico, sull'intervento da parte dell'indenità a disoccupazione e quindi dell'Inps per la tutela del lavoratore che perde al posto di lavoro. Ma attenzione, attenzione, ci deve essere in qualche modo una volontà di ripensare in maniera forte a questa differenziazione radicale di trattamento che in fondo diventa un ostacolo violento alla crescita delle imprese. Le imprese non hanno interesse, sono paradossalmente incentivate a rimanere piccole e questo è una follia. Anche per oggi abbiamo terminato. Se avete domande per i nostri avvocati, iscriveteci. Avvocati rispondono a chiocciolalcomizio.it. Noi ci vediamo la settimana prossima. Noi ci vediamo la prossima.